Da corteo storico a falso storico. Raffaele Licinio, storico medievista, già professore ordinario di storia medievale all'Università Aldo Moro di Bari, punta il dito ancora una volta contro la ricostruzione storica fatta per il corteo in onore di San Nicola, che ogni anno si svolge in città durante le celebrazioni del 7 e 8 maggio in onore del Santo Patrono. Licinio durante i mercoledì con la storia ha evidenziato la differenza tra le caravelle e navi portoghesi di fine 1400 e quelle che realmente esistevano all'epoca della traslazione delle ossa del Santo Damira, avvenute nel 1071, e cioè i Dromoni e le Chelandie. Il primo corteo che si è tenuto, si è svolto in questa città, dedicato a quegli eventi che richiamavano quegli eventi del 1087, la traslazione, il primo corteo si è avuto nel 1887, è quindi l'ottavo centenario. Quindi, a fine ottocento, si credeva che la traslazione fosse avvenuta a bordo di tre navi caravelle. Ora, immediatamente il pensiero va alle tre caravelle di Cristoforo Colombo, alle tre navi di Cristoforo Colombo, è immediato il rapporto, che sono un dato costitutivo dell'età, del periodo di passaggio dal Medioevo e la fine del Medioevo, per tradizione. Non è vero che la spedizione guidata da Colombo fosse partita su tre caravelle. Le caravelle erano due, una, quella in cui stava lui, era un caracco, cioè una caravella più grande, caracco, 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 che dunque a sua volta è una nave molto usata nel Quattrocento. Il Quattrocento è anche il secolo, verso la metà del secolo in cui si affermano le caravelle che sono navi, questo lo sappiamo oggi, prodotte per la prima volta in Portogallo, al servizio della corona portoghese. Ma noi oggi abbiamo le idee chiare su questo, come su tanti altri aspetti. Non è detto che questo fosse chiaro alla fine dell'Ottocento. Licinio poi affronta un altro tema legato al culto di San Nicola e alla ricostruzione storica della spedizione dei 62 marinai a Mira. In realtà, secondo Agostino Pertusi, storico bizantinista della metà del 1900, i marinai presenti sulle due navi erano solo 26, 13 nobili, 9 i mercanti e 4 i comandanti di navi o armatori. Insomma, non si sarebbe trattato di marinai, ma di gente che sapeva quello che faceva, ovvero nobili e mercanti che andavano in Turchia per prendere per primi le reliquie di un santo che iniziava già a far parlare di sé. Se sto al numero dei marinai, che cosa ne devo concludere? Che qui stiamo parlando di barconi, otto marinai o poco più. Questi sì, questi sono in grado di spostare delle grosse barche a vela. Quello che il sindaco, forse senza volerlo, ha chiamato peschereccio. Resta quindi un interrogativo, un falso storico di questa portata deve essere corretto o diventa esso stesso tradizione leggenda, essendo ormai legato da decenni alle celebrazioni in onore di un simbolo per la città come San Nicola?